bene signor che ora vediamo se oggi invece cambia qualcosa una sola canna che qui punto buone uno solo è inutile piazza o non altra rischio di incagliare sempre innesco generoso grazie 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 La mureina, che presenta con cala mureina. Il peso dell'esca nemmeno la senti. Non sentivo più nemmeno il peso dell'esca. Prima mureina, almeno la prendevo, non facevo più. Ho visto un'altra piccola vibrazione, che comunque con la cam è difficile vederla. Mi sa che è scomparso un altro amo. Mi sa che sono entrato in campo da mureina. Ora vediamo il cartello. Ci sono un punto di mangiare. Si guarda un pollo di mangiare, non farò da. C'è un pollo che si vuole. Inizia un pollo che si vuole. Non, non, non parla. Mi spiegami a spiegato. Mi spiegati a spiegato. Non, non, non. che entrano le morene allucinante ragazzi c'è il secondo bracciolo il secondo uomo è scomparso con l'esco vabbè non sono granchi grazie 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 bene signori meno male che ho guardato il video quando ci avevo spuntato tutto ora sono già in autostrada pensavo di avervi salutato là dopo che si è messo col vento maledetto invece non abbiamo non è registrazione il telefono vabbè peccato oggi è la giornata bella mare piatto calmo zero vento ma come avete visto in un attimo senza preavviso nel nulla si è buttato ventissimo le morene erano in campo come avete visto è pazienza sarà per la prossima dai speriamo bene ise morene ciao signori ciao 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti